Nell'ultima seduta della conferenza del capigruppo è stato definito il calendario dei prossimi consigli comunali. Saranno ben quattro le sedute della massima assiste del comune di Fondi. Il 10 marzo alle ore 18 si svolgerà una seduta che avrà all'ordine del giorno la deliberazione su una mozione di solidarietà ad Asia Bibi, seguirà la presa d'atto del piano di classificazione acustica del territorio comunale, la modifica del regolamento cimiteriale, la discussione sull'interpellanza presentata dal consigliere Bruno Fiore sulla gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata e il prosieguo del dibattito sulla proposta di modifica allo statuto comunale. La successiva seduta è convocata per lunedì 14 alle ore 17.30. All'ordine del giorno due soli punti, la discussione sull'accordo di programma 2011-2013 ai sensi della legge 328 del 2000 e la definitiva approvazione della modifica dello statuto ai sensi dell'articolo 6,4 del decreto legislativo numero 267 del 2000. La terza seduta è stata convocata per martedì 15 con inizio alle ore 16. Sarà una seduta pubblica straordinaria dedicata esclusivamente alle celebrazioni dell'unità d'Italia. La quarta ed ultima sì, se prevista, è quella che si svolgerà a mercoledì 23 con un unico punto in discussione. Analisi dello stato economico ed occupazionale, gli scenari possibili legati al contesto territoriale. Questa seduta si svolgerà su richiesta degli undici consiglieri di minoranza. Fitto calendario di lavoro per il Consiglio fondano impegnato su più fronti, argomenti vari, alcune di quali di particolare rilevanza. E lo sanno bene gli esponenti della minoranza, pronti a dare battaglia soprattutto nella seconda seduta, quella dedicata all'approvazione definitiva della modifica allo statuto comunale. A loro si deve anche l'ultimo consiglio in programma in cui si parlerà di lavoro, tema quanto mai attuale.